Va prima a riconciliarti con tuo fratello. Gesù ci esorta a fare meglio degli ebrei e degli scribe e dei farisei. Gli ebrei scoprono la volontà di Dio nello studio della Bibbia. A nostra volta non siamo chiamati a fare più di loro ma a fare meglio secondo il cuore di Dio. Si deve cercare la giustizia, onestà, santità di vita attraverso il perdono e l'amore. Le pratiche esterne non sono frutto di un cuore che ama. Anche il sacrificio eucaristico non è accettabile se non partono dall'amore e la pace del perdono con il fratello. Quando stai a presentare la tua offerta all'altare e ti ricordi di stare in discordia con il tuo fratello, lascia l'offerta, vai a fare pace prima con il tuo fratello e poi ritorna in chiesa a fare l'offerta. Queste sono parole del Signore, quanto sarebbe interessante e quanto sarebbe rivoluzionario se ognuno di noi mettesse in atto questo principio. Se tu stai per fare l'offerta all'altare, vai prima a riconciliarti col fratello e poi ritorna a fare l'offerta al Signore. Il nuovo messaggio di Gesù. Gesù ha messo la mano alla scura e tutto ciò che per gli ebrei era fondamentale, Gesù lo annulla perché poggia tutto sull'amore vicentevole. Se amate il prossimo, se amate il fratello bisognoso, se vi chinate come la parabola che Gesù del buon samaritano, come il samaritano che si piega ad accogliere quel malcapitato mezzo morto nel deserto, allora noi abbiamo dimostrato di amare Dio perché abbiamo amato il suo figlio e Dio dice bravo, bravo, mi hai salvato un figlio. Ma questo faceva improgli nel commercio, questo era un delinquente, questo approfittava degli altri, ma è mio figlio, era morente e voi me lo avete salvato. Ecco il concetto di fondo del Vangelo. Tutta la religione di Cristo sta in questo. Tu hai con Dio le stesse relazioni che hai con i tuoi fratelli. Perciò Dio è diventato uomo. E questo è importante. Dio considera fatta a sé ciò che noi facciamo al nostro fratello. Dio si riserverà alla fine dei secoli a darci ricompensa per un bicchiere di acqua che abbiamo dato al fratello bisognoso. Dio è in ogni creatura e la rispetta a bisogno di te. Padre Pio lascia uno scritto che ci fa pensare, che ci fa riflettere suona alla mezzanotte e, sfinito dagli esuberanti lavori sostenuti in tutti i giorno, prendo la penna in mano per scrivervi qualcosa del mio animo. Povero me, non posso trovare riposo, stanco e immerso nell'estrema amarezza, nella desolazione più disperata, nell'angustia più angosciosa. O Signore mio Dio, non mi abbandonare, sono tutto tuo.